ciao ragazzi ben ritrovati buon martedì 31 maggio ultimo giorno di maggio domani inizia giugno e quindi entriamo nell'ultimo mese che ci porterà all'apertura del mercato estivo e ovviamente alla scadenza dei contratti in essere ieri abbiamo parlato anche di quello di deciglio sappiamo che ce ne sono tanti altri di giocatori non legati alla juventus che stanno per scadere due su tutti che ci interessano sono pogba e di maria proprio di questo ieri ho parlato in un piccolo video preoccupazione e oggi tra ieri sera e stamattina diciamo che romeone agresti mi ha un po tranquillizzato però rimane il discorso che vi ho fatto ieri di fondo romeo ha detto che mercoledì quindi domani primo giugno la juventus e agenti di maria confermato si incontreranno per discutere questo fantomatico contratto che potrebbe firmare magari già nella giornata di domani o comunque un preaccordo per poi andare a fare le visite mediche e per poi venire ufficializzato sul sito della juventus a me importa che venga fatta una firma una sorta di preaccordo per essere tranquilli che questi due calciatori non tratteranno con altre squadre che questa è la mia preoccupazione grande poi ovvio se non passa le visite mediche lì ci si può fare veramente poco ma stiamo parlando di casi abbastanza isolati per fortuna per fortuna nel mondo del calcio invece su pogba proprio oggi romeo ci ha detto che parlando con una fonte autorevole gli è stato detto che presto ci saranno degli aggiornamenti importanti poi che sia da una parte che sia dall'altra cioè pogba arriva pogba non arriva questo non l'ha specificato ovviamente rimango dell'idea che una bella dub con con pogba e maglia juve l'anno prossimo me la voglio vedere alla grandissima ma cerchiamo di parlare anche di altre cose perché purtroppo non dobbiamo fermarci soltanto a questi due nomi perché la juventus beh purtroppo forse per fortuna perché la juventus sta facendo un mercato ha in mente di fare un mercato molto ampio e quindi dovremo andare a toccare tanti temi voglio partire dalla difesa perché in questo momento quali sono le priorità beh trovare un sostituto di chiellini ovviamente un giocatore che possa essere importante all'interno della difesa della juventus ben venga un profilo giovane d'esperienza comunque internazionale quindi un giocatore che ha giocato almeno un paio d'anni in europa un giocatore che comunque conosce il campionato di serie a o comunque il campionato maggiore d'appartenenza e che magari non abbia un costo così elevato a bilancio o comunque a livello di ingaggio butto subito il carico così poi ci parliamo tranquillamente su questo argomento di minale potrebbe essere quel nome e voi direte ma di minale già della juve sì esatto ma l'atalanta non sembra davvero intenzionata a riscattarlo e quindi potrebbe tornare alla base è l'identikit di quello che vi ho appena detto demirale tendiamoci quindi un difensore che possa sostituire chiellini se esce per dire rugani un sostituto di rugani io vi avevo detto qualche tempo fa si era parlato di acerbi secondo me acerbi era il profilo ideale per sostituire rugani quindi il quarto difensore che va a abbassare il costo di ingaggio perché ovviamente rugani prenderebbe il doppio di quello che prende acerbi è vero cerbi è più vecchio è più esperto ma prende di meno e per essere il quarto centrale la juventus in questo momento deve fare questo di ragionamento a meno che non decida di inserire direttamente un giocatore dall'under 23 o dalle giovanili direttamente dalla primavera in pianta stabile in prima squadra come quarto centrale o come quinto centrale questo poi è un altro discorso e magari ben venga sarebbe figo però mi dispiacerebbe poi non vederlo praticamente mai giocare perché sapete bene che in teoria il quarto quinto centrale non è che sia proprio lì per per fare tanti minuti è per questo che vi dico uno come rugani con quell'ingaggio lì probabilmente oggi è un po' troppo per quelle che sono le casse della juve stessa cosa si potrebbe dire per alexandro ora lo sappiamo pellegrini ha chiesto l'accessione dovrebbe uscire alexandro vorrebbe rimanere per l'ultimo anno di contratto la juventus per papparsi gli ultimi soldini per andare a farsi il mondiale da giocatore della juventus poi io ribadisco sempre attenzione perché l'ultima finale giocata dal brasile la giocata titolare reran nodi dell'atletico quindi non so se alexandro è così sicuro e tranquillo di essere titolare al mondiale tanto da non doversi mettere in gioco per cercare un'altra squadra dove la juventus probabilmente in questo momento non giocherebbe perché comunque lui e pellegrini non è che hanno giocato un numero di partite così differenti nell'ultima stagione quindi attenzione lì sono a faraci suoi quindi un terzino sinistro che possa sostituire alexandro ma ovviamente per l'anno dopo quindi un giocatore che sarà già titolare in questa stagione e che l'anno prossimo poi basterà prendere un sostituto di alexandro e finire lì tra l'altro ieri parlavamo del rinnovo di descigliono un rinnovo che si potrebbe fare come no è più probabile no forse addirittura ad oggi e allora vi dico in caso in cui facciamo questa previsione esce pellegrini dentro udogi con udogi che diventa il titolare alexandro che guarda udogi crescere su quella fascia arare quella fascia rimarriamo rimaniamo con udogi e alexandro a sinistra daniele quadrado a destra perché desciglio non rinnova e pellegrini esce perché chiesto l'accessione voi in questo caso con questi quattro terzini rosa siete tranquilli vi sentite tranquilli perché io vi dico la mia sinceramente no e addirittura in questo momento io sono per rinnovare mattia di sciglio che è una cosa folle perché un classe 92 è un giocatore che secondo me alla juve non aggiunge niente però è un giocatore che ti gioca su tutte e due le corsie e se devo pensare una juve in cui alexandro è ancora presente il rosa l'anno prossimo e non c'è pellegrini e quadrado e danilo ragazzi ci hanno dimostrato che non sono proprio così affidabili o allora mi aggiungi davvero un devinter che può fare il centrale e può fare pure il terzino destro però poi a sinistra se non gioca udogi gioca per forza alexandro e allora qua andiamo un po' nel pallone o mi trovi un terzino all'interno della juve che ha esattamente le caratteristiche di risciglio che può giocare sia a destra che a sinistra può fare bene o male il jolly no perché io non sono proprio così convinto che danilo quadrado come corsia di destra siano così affidabili se aggiungiamo che quadrado tante volte potrebbe essere utilizzato alto quindi spostato avanti di qualche metro allora vi dico occhio occhio perché secondo me presentarsi con solo questi quattro terzini qua ai nastri di partenza potrebbe essere un errore per la juventus questa è la mia opinione personale basata anche su quello che ho visto nelle ultime stagioni e capendo anche gli stati di forma fisica di alcuni calciatori per quanto riguarda invece de miral che è un giocatore che la juventus l'anno scorso ha scaricato io vi dico a me va bene riprendere de miral mi è sempre piaciuto de miral è sempre stato un calciatore che mi dava l'idea di essere un buon prospetto classe 98 quindi ancora abbastanza giovane però attenzione di miral per quello che ci ha fatto vedere secondo me non è un fuoriclasse non è un fenomeno del ruolo l'ho pensato potesse essere veramente un bel difensore il primo anno quello con sarri l'anno scorso con pirlo mi ha dato un po' di di incertezze stesse incertezze che ho visto quest'anno a bergamo perché l'anno scorso banalmente potevi pensare si ma torna da un brutto infortunio al ginocchio rimediato a roma dopo il gol tra l'altro in un periodo in cui stava giocando a titolare lui insieme a bonucci cui vi aveva fatto veramente pensare wow abbiamo preso un altro bel difensore oltre a delizio si è rifatti la difesa quindi benvenga il ritorno di de miral la domanda che dobbiamo porci però in questo caso è la seguente l'anno scorso quando è stato ceduto de miral perché è stato ceduto? per un discorso meramente economico dove la juventus era in difficoltà e quindi doveva cercare di mettere via bilancio determinate cose doveva cercare di mettere a bilancio una plusvalenza o un ingresso o alleggirsi o di ingaggio e quindi delle due hanno tenuto rugani perché non riuscivano a sbolognarlo oppure per una difficoltà tecnica legata a quello che aveva visto Allegri perché banalmente se de miral ha chiesto l'accessione perché voleva giocare come probabilmente è e Allegri ha detto va bene lo possiamo dare via perché non mi piace non si integra al mio modo di giocare non lo vedo come potenziale titolare non lo vedo come giocatore farlo rientrare e tenerlo mi sembra un po' una follia perché l'idea dell'anno scorso non può essere cambiata in questa stagione cioè sarebbe quantomeno strano bizzarro se invece la juventus l'anno scorso ha deciso di dare via De Miral anche contro voglia con magari Allegri che diceva oh vabbè diamolo via però ragazzi è meglio De Miral che Rugani capisco che Rugani non lo si possa cedere e questi costi di gestione sono troppo alti allora ben venga e lo tengo lì tranquillamente e immaginarmi De Litt Rugani De Miral e Bonucci forse è un po' poco e per quello che vi dico aggiungiamo magari De Winter può fare sia il centrale che il terzino e andiamo a coprire un po' tutti i buchi che abbiamo avuto in questa analisi forse tutti no perché poi a sinistra manca qualcosina però lì eventualmente ci puoi mettere Danilo che qualche volta l'ha fatto con il ruolo lì infatti mi dispiace dare via Pellegrini sinceramente io manualmente insisterei su Alexandro fino a dirgli oh ragazzo non c'è trippa per gatti in questo posto sei fuori dai progetti tecnici della Juventus quindi libero di rimanere qua però il campo proprio non lo vedi perché se andiamo avanti con l'Alexandro delle ultime due stagioni purtroppo in particolar modo di quest'ultima stagione purtroppo non è un profilo che terrei volentieri e penso che nemmeno la Juventus terrebbe volentieri arrivato a questo punto quindi attenzione che secondo me sulla difesa c'è da fare un bel ragionamento come vi dicevo nel centrocampo c'è abbondanza abbiamo troppi giocatori rispetto a quelli che sono ed è incredibile perché il centrocampo è sempre stato un po' il punto debole della Juve in questi ultimi anni davanti e dietro tra attacco e difesa secondo me con le eccessioni che abbiamo fatto e con quelli che rimarranno in rosa siamo un po' pochi e dobbiamo iniziare a gestire un po' benvenga il ritorno di De Miral per quanto secondo me non stiamo parlando di un difensore di chissà quale livello secondo me il dubbio il grande dubbio l'anno scorso della cessione di Miral era stato il dover rimanere con Rougani come quarto che mi è sembrata una follia perché Rougani è un perfetto quinto come quarto con quei costi lì di gestione secondo me è un po' alto per il livello di Rougani poi quest'anno comunque ha fatto una buona stagione pure il rigore decisivo che ci manda fuori dalla Champions l'ha causato proprio lui e vabbè che De Miral è fatto negli altri anni il rigore che ci ha buttato fuori dalla Ceppio questo è un altro discorso purtroppo però vediamo dai vediamo che cosa succede l'importante è che davvero a livello di idea dell'allenatore De Miral non sia un calciatore fuori range fuori progetto perché sennò sarebbe semplicemente una follia riprenderselo e tenerselo perché magari non riesci a ricedere la cifra che vuoi perché magari non hai spazio di manovra per cedere un altro difensore e prenderne un altro non voglio essere impiccato per ragioni di sovrabbondanza di giocatori in rosa che non riesci a cedere mi piacerebbe vedere una Juventus che costruisce una rosa con geniale ad Allegri perché adesso qua vi faccio un piccolo spoiler per un video che sicuramente faremo in futuro quest'anno Allegri allenato con la sindrome del posto fisso come se fosse uno statale che sa che la sua poltrone è bella salda lì l'anno prossimo Allegri dovrà allenare come uno da partita IVA come un libero professionista o comunque come uno stagista o qualcuno in scadenza di contratto che deve far vedere che deve essere rinnovato perché sennò va a casa sono due modi diversi di vivere la stagione e quindi gli allenamenti e le partite quindi attenzione che la dirigenza ora ha l'obbligo di dare una squadra idonea ad Allegri per fare quello che dovrebbe fare Allegri per quello che sono state le ragioni che hanno riportato Allegri sulla panchina della Juve perché sennò lì secondo me rischiano un po' tutti vediamo che cosa succede all'epoca a quando a Grazie.